Sì, sono contento, sì, sì, sono contento, sono contento e non è tanto per il risultato rotondo che ci mette proprio in discesa l'appuntamento di ritorno, da non sottovalutare ovviamente ci permette anche di fare un turno aver ragionato sono contento perché quando si avvicinava la partita ovviamente ragazzi, l'avevo anche detto nei video mi sentivo la vittoria, ero positivo però hai sempre quella sensazione che poi la tua squadra entra in campo sottovalutando l'impegno, sottovalutando il Rennes il Rennes che comunque ha dei buoni giocatori ovviamente sono stati intimoriti, è una squadra giovane ci stava, ci stava, il Rennes non è Rennes assolutamente visto negli ultimi otto partite in Francia veniva da otto vittorio consecutivo il Rennes che aveva ripreso la risalita la ricerca di un posto per la prossima Europa League il Milan è entrato bene ragazzi, il Milan è entrato bene ero assolutamente d'accordo con la formazione di Pioli come John mi sarebbe piaciuto vedere sicuramente Benasser e Rennes però capisco che Benasser lo si voglia centellinare dopo nove mesi fuori fargli subito giocare due o tre partite di fila a 90 minuti considerando che ha anche giocato in Coppa d'Africa ed è bastato un tanto che si rompesse di nuovo va bene così, ottima partita del Milan abbiamo giocato bene, ho visto buone trame di gioco era da un sacco di tempo che non vedevo queste trame sicuramente favorite da un Rennes non al 100% però ragazzi, però ragazzi però ragazzi fatemi dire una cosa agli interisti no perché io c'è veramente non lo so a volte credo che bisognerebbe istituire il patentino dei tifosi per evitare di sparare stronzate no perché abbiamo interisti che si ostinano ancora a mettere nella stessa frase fra Tesi e Loftus-Cic ma come cazzo si fa? doppietta, doppietta di Loftus-Cic ragazzi il primo gol è molto 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 bello molto bello come si è fatto trovare in area grande assist di Florenzi ma bellissima la spizzata a fil di palo palo gol per Loftus-Cic ragazzi Loftus-Cic l'ho sempre detto dal giorno 1 da chi lo etichettava come bidone questo giocatore c'ha tranquillamente in Serie A 8-10 gol ma proprio così nei piedi addirittura Piore nel post partita lo paragona a Milinkovic-Cic secondo me non c'entrano molti due calciatori nel senso che Loftus-Cic è uno che potenzialmente può anche segnare più di Milinkovic-Cic ma Milinkovic-Cic a livello di piedi è un'altra roba stiamo parlando di giocatori completamente diversi Loftus-Cic è un giocatore che diciamo non ha la visione tra le sue principali caratteristiche uno che se c'è da farti l'ultimo passaggio magari te lo fa ma non lo pensa Milinkovic disegnava calcio quindi mi dissocio da questo paragone però è un calciatore che assolutamente come mix di fisica e tecnica può veramente portarci lontano in campionato e soprattutto in Europa League Europa League ragazzi che dopo il primo gol di Loftus-Cic il Milan finalmente ha giocato sempre più sciolto inizia il secondo tempo a bomba perché facciamo un secondo gol su calcio d'angolo spizzata di Chier palla respinta da mandando a gran parata si avventa sulla palla Loftus-Cic per il 2-0 doppietta sette gol per il nostro Rubs e subito dopo mi sembra 53-54 55esimo grandissimo gol di Leao ragazzi mi è sembrata quasi una fotocopia un po' più vicino del gol che ha fatto contro l'Atalanta in Coppa Italia gran gol di Leao un gol che come ha detto uno dei miei più cari iscritti Gabriele dall'esultanza si è capito cosa avesse dentro un gol di importanza fondamentale per Leao che gli permette insomma di liberarsi dalle scorie dalle critiche perché Leao ragazzi io l'ho detto rispetto al passato poche volte è stato assente in campo quest'anno poche volte si è preso pausa disinteressandosi si è visto anche nel corso del primo tempo quando praticamente al 42esimo 43esimo in uno dei contropiedi del Rennes si è avventato e ha conquistato una palla ridosso del limite della propria linea di rigore questo fa vedere fa capire che comunque un calciatore che c'è nel Milan di testa contentissimo ovviamente per il suo gol contentissimo per la prestazione perché ripeto non è tanto l'aver battuti Rennes 3-0 ci sta anche come risultato vedendo i due valori delle rose è proprio l'approccio che abbiamo avuto con questo approccio noi possiamo arrivare fino in fondo in Europa League e poi ovviamente ragazzi diventerà molto gli accoppiamenti adesso ovviamente settimana prossima quando ci sarà il ritorno ci sarà il passaggio del turno in quel caso poi si andrà a fare il sorteggio con quelle che sono arrivate prima nel girone ci saranno le percuse ci saranno l'Iverpool ovviamente squadre assolutamente da evitare in questo in questo frangente sperando che in qualche modo si possano ai quarti annullare perché obiettivamente ragazzi io spero dal lato che Liverpool possa snobbare l'Europa League preferendo la Premier League dall'altro l'Ivercuse magari possa avere un enorme calo nella seconda parte di stagione perché obiettivamente sia i giocatori forti a fenomeni che valgono 60, 70, 80, 100 milioni però ragazzi capite bene che stanno facendo qualcosa fuori dal normale ad ogni grido il Bayern Monaco cerchiamo insomma di respirare sono veramente felice perché avevo l'attenzione del tifoso che ha visto troppe volte la propria squadra snobbare l'Europa League come ho detto nel video scorso sono uno di quei tifosi che vuole il Milan vincere qualsiasi competizione che sia la Coppa del Nonno che sia il Trofeo Team passando per la Supercoppa Italiana l'Europa League la Serie A e la Champions League dobbiamo sempre dare il massimo perché come l'Inter ha dimostrato in questi anni vincere aiuta a vincere si parte dalla Supercoppa Italiana si arriva alla Coppa Italia però poi affronti sempre le finali con un po' più di tranquillità un po' più di scioltezza un po' più di calma e quindi sono veramente veramente tanto 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 felice lasciando e parlando dei singoli grande grande prestazione di Gabby ancora una volta su Calimo Endò cattivo preciso mi è piaciuto molto Florenzi molto preciso addirittura nel primo tempo ha fatto un sombrero alla Florensigno erodendo l'esterno del Rennes devo dire che a centrocampo Musa qualche passaggio sbagliato qualche passaggio a vuoto è stato prezioso in fase di recupero palla è entrato molto bene Berasser buona partita di Renders anche se quando ha l'opportunità di tirare tira sempre male le ha ottima partita mi è piaciuto molto devo essere sincero ovviamente lo Vtussic Pulisic un po' così un po' così ho visto da un video che praticamente Pioli da circa 6-7 partite ha in qualche modo spostato molto i dettami difensivi di Pulisic li ha cambiati e se avete visto nel corso di tutta la partita Pulisic era sempre molto più ritratto di Leao cercava di prendere palla ridosso del terzino quasi aiutandolo nel raddoppio e secondo me questo da un lato favorisce Leao per quanto riguarda l'attaccare con più tranquillità dall'altro però sicuramente penalizza i numeri di Pulisic ha fatto qualche accelerazione molto 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 importante uno ha portato in un contropiede un tiro strozzato troppo da parte di Giroud nel primo tempo l'ha preso una traversa insomma è stata una partita dove il 3-0 poteva anche finire 4-0 qualche bella parata di Magnano nel secondo tempo e niente finisce qui praticamente Milan fatevi sapere cosa ne pensate assolutamente voi della partita se siete felici come me di aver visto un Milan scendere in campo con la testa ripeto il più grande periodo era vedere il Milan scendere in campo con le palle girate prendendo le loro paliche come fosse un passo indietro è un passo indietro rispetto alla Champions League ma vincendola si può sicuramente svoltare la stagione e io voglio crederci voglio quantomeno arrivare alle fasi finale e lì sì che diventa una bella competizione vi ringrazio per essere stati qui con me pollice attenzione che è il video iscrivetevi al canale attivate la campagna e le notifiche tutto gratis oltre io ci vediamo domani con il video ma già le bella raga sempre solo forza mia daia